Ciao a tutti ragazzi! Io sono Michele e questo è il mio nuovo video. Oggi sono a casa della mia ragazza. C'è la piscina, mi sono fatto già il bagno. Ora in caso farò un altro video, oggi dove vi faccio vedere come vi dofferto un po' che il bagno. Guardate la piscina e mi faccio il bagno. Però ora non me lo posso fare il bagno. Il bagno me lo faccio in altro video, sempre lo faccio, e poi dopo mandato lo farò. Perché oggi farò un po' di video e mi faccio vedere come vi dofferto un bagno. Allora, la mia ragazza è che si fira la carne, allora. E' un po' bello! E' un po' bello! E' un po' bello! L'acqua è stupenda! L'acqua è stupenda! Arrivo! Passoio subito! Passoio! Me lo posso fare il bagno in piscina! Sì, sì. Qualche interruzione me lo posso fare. Io... Faccio fare un tubo! Mi ammazzerà mio padre! Passoio subito! E' stupendo, porti il bagno, porti il bagno, porti il bagno, porti il bagno, porti il bagno. Vado a farla, ho paura di cadere nella quadra. Poi forse domani registro un video dove dico la reazione di mia madre quando mi ha visto che sono tutta bagnata. Perché mi sono asciugata, ci sono stati fino ad ora. E' da due ore che non sono stato il bagno, quindi ora è due ore. Prendo la mia malla, vai da legge. Sto salutando la mia ragazza. Sto salutando la mia madre, sto scialando la mia madre. Andando, andando. Ora io vado a mangiare, quindi iscrivetevi al canale, scrivetevi al campanellino e lasciate un bellissimo like a questo video. Ciao! Ciao! Mi che l'amera ragazza! Mi che l'amera! Mi che l'amera! Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti